Pensiero stupendo, quello di averla invitata qui oggi. Ragazzi, la stupenda amica di questa puntata è... Patti Bravo! Patti Bravo, il pensiero stupendo. E tu, e noi, e lei, tra noi, vorrei, non so, che lei, no. Le mani, le sue, pensiero stupendo, nasce un po' così, channo. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non di me. E tu, e noi, e lei, tra noi, vorrei, vorrei. E lei, e lei, adesso sa che vorrei, le mani, le sue. Il primo o poi, poteva accadere, sai. Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. E tu, e lei, pensiero stupendo, nasce un po' così, channo. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, vorrei. E lei, e lei, e lei, adesso sa che vorrei, le mani, le sue. E poi, un'altra volta con me due. Vorrei, per amore, per ridere, dipende da me. E tu, e lei, ancora, e lei, ancora, e lei, un'altra volta tra noi. La male, questa volta sei tu, e lei, e lei, a poco, a poco, di più, di più. Vicini, per questione di cuore, se così ti può dire, dirò, e tu. Ancora è noi, ancora, e lei, un'altra volta tra noi. Fra noi, fra noi, pensiero stupendo. Nasce un po' così, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, Bello non dire, ma prima o poi. Non poteva accadere, stai, si può scendere. Bravissima, bravo.